Buongiorno, oggi ho il piacere di conversare col maestro Gilberto Serembe, direttore d'orchestra, didatta e fondatore di un'importante accademia italiana. Maestro, lei ha avuto la fortuna di studiare con dei maestri importantissimi come Franco Ferrara e Mario Gusella. Che eredità artistica e spirituale le hanno lasciato questi due grandi personaggi? Erano due musicisti totalmente differenti. Gusella era un vero e proprio didatta e fu il mio maestro dai 19 ai 22 anni circa in conservatorio. Essendo allievo poi di Hermann Scherchen, a tutti noi impartì delle nozioni molto severe e molto utili per l'inizio di questo tipo di studio. Era una persona molto metodica, esattamente come lo era sicuramente Hermann Scherchen. Quindi per un giovane era fondamentale avere quel tipo di insegnamento, soprattutto a quell'epoca, perché non dimentichiamo che più di 40 anni fa la situazione musicale e anche l'approccio da parte del direttore d'orchestra era molto diverso da quello che è adesso. Ferrara, tutti lo sappiamo, era la reincarnazione della musica. Non era assolutamente un didatta come lo era invece Mario Gusella. Era la musica fatta persona, da lui bisognava andare per comprendere, capire se continuare a dedicarsi al mondo musicale o no, o abbandonarlo. Era praticamente un uomo totalizzante dal punto di vista musicale e umano. Non si può assolutamente dire che lui fosse in grado di insegnare. Da lui bisognava andare perché emanava qualche cosa di grandioso e lì qualcuno era in grado di recepire questo messaggio e chi non lo era naturalmente molto spesso abbandonava. Comunque due grandi personaggi molto differenti ma entrambi di grandissima umanità. Ha avuto anche la fortuna di affiancare il maestro Giulini. Sì per alcuni anni. Tra l'altro il rapporto con Giulini nacque un po' per caso perché lui venne in Italia nel 1974 dopo molti anni che non dirigeva. Venne alla Scala, fece un magnifico concerto con i Wiener Symphonic, con una straordinaria prima di Mahler. In quell'occasione purtroppo la critica milanese lo stroncò. Io nel fervore dei miei 19 anni scrissi a tutti i giornali una lettera di fuoco. In quell'occasione io mandai anche una lettera a Giulini per conoscenza. Da quel momento nacque questo rapporto. Io seguì molto spesso le sue prove. Lo andai a trovare spesso nella sua abitazione qui a Milano in Via Ciovasso. Insomma per un giovane, qual'ero io, molto significativo e poi seguendolo alle prove, alla scala, imparai moltissimo. Anche perché avendo avuto la fortuna di vedere tanti direttori. Quando incontrai Giulini, provare Giulini, per me fu una rivelazione perché fu uno dei primi dai quali io ascoltai solamente parole intorno alla musica e non questioni tecniche. Non questioni tecniche. Che è un po' anche il pensiero che lei cerca di trasferire quando insegna perché lei oltre a un'attività di direttore d'orchestra si è dedicato molto presto alla didattica. Sì, anche lì un po' per caso perché quando morì Mario Gusella che a quell'epoca aveva lasciato l'insegnamento al conservatorio e insegnava all'Accademia di Pescara, l'Accademia musicale pescarese, mi chiamarono in sostituzione sua insieme a il maestro Donato Renzetti, anche lui mio compagno di scuola. E lì iniziai un po' per caso la mia attività di insegnamento. Ma quindi nell'Italia dei conservatori lei ad un certo punto ha deciso di fondare un'Accademia. Sì, beh, più che un'Accademia è la proiezione di me stesso. Adesso non voglio essere grandioso, ma ho pensato di fondare questo luogo di incontro e di condivisione. Condivisione da parte degli allievi dove tutti possono sperimentare dall'inizio cose grandiose e soprattutto per lasciare qualche cosa di me. Il mio pensiero, la mia esperienza musicale e umana, naturalmente. È un luogo dove tutti hanno la possibilità di sperimentare sin dall'inizio anche il grande repertorio, allievi alle prime armi e allievi già che vengono per perfezionarsi. E molti mi chiedono come mai ad esempio a dei giovani che quasi non hanno mai preso in mano la bacchetta si dà l'opportunità di dirigere anche i capolavori, non so, come una sinfonia di Beethoven o di Brahms. Diciamo che il motivo è che quando uno vuole imparare a notare è bene che si butti nell'oceano in tempesta e se è in grado di galleggiare forse potrà salvarsi. Ecco, poi è una bellissima filosofia questa. Poi tra l'altro, a proposito di didattica, io non ho una didattica, ho un metodo più di tipo induttivo, cioè io induco i musicisti, i giovani musicisti a fare certe cose, soprattutto ad essere se stessi. Faccio in modo che tutti quanti non abbiano dei cliché soprattutto, cliché tecnici ed interpretativi, perché tutti sono diversi e quindi non si può applicare una tecnica generale a tutti. Poi anche sul fatto della tecnica c'è un po' di mistificazione perché tutti pensano che la tecnica del direttore sia quella gestuale, un due tre quattro, ma quelli sono problemi che si risolvono nelle classi di solfeggio. La tecnica del direttore è un insieme di cose. È la capacità uditiva, è la capacità di memorizzazione, di intuizione, una cultura generale che serve anche naturalmente alla proiezione del proprio pensiero musicale, la capacità poi in termini gestuali, ma il gesto è la proiezione del pensiero musicale, cioè l'ultima fase di tutto un percorso che si trasforma nel gesto. Tra l'altro la cosa che molti non comprendono è che la tecnica del direttore d'orchestra, essendo un risultato finale, è quello che permette di esprimere un pensiero musicale che ad esempio con gli strumenti non è possibile perché se io sul pianoforte non so effettuare una scala di do maggiore col passaggio del pollice non potrò arrivare neanche a un minimo pensiero musicale. Nel caso della direzione d'orchestra è diverso, completamente differente perché io devo partire da un pensiero musicale per arrivare a una tecnica finale che è quella dell'orchestra. Quindi il direttore d'orchestra deve partire dalla sua idea musicale, che poi è anche una concezione del suono dell'orchestra, di ciò che vuole realizzare, e la esprime poi gestualmente. Tant'è vero che ci sono direttori d'orchestra che si esprimono con grandi gesti, chi con gesti minimi, alcuni anche con gesti irrazionali, eppure sono efficaci sull'orchestra. Bellissimo, certo. Ma infatti scorrendo i programmi della sua accademia che annualmente propone ai suoi allievi si nota anche una vasta scelta del repertorio che oltre ai capisaldi lei affianca autori anche meno noti e soprattutto in un periodo storico in cui gli enti musicali spesso propongono i soliti programmi, le sinfonie di Mahler anziché le sinfonie di Beethoven, che per carità è capolavori assoluti, però lei amplia molto il repertorio. Ma secondo lei quali sono gli autori fondamentali che servono per sviluppare forse meglio il pensiero musicale di uno studente e quali poi altri che possono essere utili per arricchire? Beh, è chiaro che i classici sono alla base, perché conoscere gli stili di Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, poi i romantici, Mendelssohn eccetera, è fondamentale perché sono alla base della creazione anche del pensiero e del gusto musicale. C'è da dire una cosa che un direttore d'orchestra non può essere in grado di affrontare tutto il repertorio, lo può anche fare, ma ognuno ha un proprio ambito spirituale, un proprio ambito di capacità. Ci sono stati grandi direttori d'orchestra che ad esempio un repertorio di tipo virtuosistico, come potrebbe essere dirigere Sagra di Primavera, non l'hanno mai affrontato. Quindi ognuno avendo un suo ambito poi è bene che scegliasi anche sin dall'inizio. Ad esempio quello che trovo molto strano è che un giovane vengono sempre da me prima di scriversi ai miei corsi, a trovarmi, parlare, e alla mia domanda cosa preferivi fare, qual è la cosa che ti appassiona di più. In genere vedo che sono sempre resti nel rispondere, come se si iscrivessero a un corso di direzione d'orchestra per imparare un po' tutto ed essere pronti ad affrontare un po' tutto. E per carità, questo dal punto di vista del lavoro futuro può garantire molte opportunità. Dal punto di vista della propria vita futura non credo. Lì ci sarebbe da fare un discorso molto più vasto a proposito della volontà di vedersi anziché quella di ottenere le cose durante la propria vita, perché credo che il problema principale oggi dei giovani sia quello di avere una visione di se stessi entro 5-10 anni per capire cosa fare della propria vita, mentre molto spesso è una questione solamente di ottenere le cose, e le cose si ottengono facilmente, insomma, ci sa anche come, insomma. Ma lei dai suoi allievi che concludono il suo percorso di studi, cosa si aspetta dopo questo processo, diciamo, evolutivo, perché in un certo senso è una scoperta. La cosa bufa è che io ho allievi giovanissimi che sono già molto evoluti, magari non sono ancora completi musicalmente, non hanno un background finito, rifinito, però sono persone maturissime. Ho avuto allievi con tre diplomi che non erano assolutamente pronti per questo percorso, quindi anche lì è molto, molto diverso. Cosa mi aspetto? Io mi aspetto sin dall'inizio principalmente il rispetto per la musica. Mi aspetto soprattutto un rispetto verso se stessi e lì mi riallaccio a quello che ho detto poco fa, appunto come ci si vuole vedere, quindi se si vuole apparire o se si vuole essere, è la solita storia. Certo che il direttore d'orchestra per la sua natura, un po' come tutti i musicisti, si vede, ma il direttore si vede molto di più, molto di più di altri musicisti. E forse è questo il dramma, no? Quello diceva anche Stravinsky, lo diceva, la musica è anche da vedere. Forse noi oggi guardiamo troppo e ascoltiamo poco. È un po' come anche quando molti appassionati vanno alla scala per vedere un'opera, ma non per ascoltarla. Ecco. Certo, certo. O per essere alla scala. O per essere alla scala. Lì si entra in un altro ambito di tipo sociale. Beh, ma in effetti adesso i tempi sono molto cambiati, siamo nell'era del digitale, del social, c'è questa grande attenzione per la visibilità e poi spesso, a volte insomma, il prodotto musicale, se vogliamo usare dei termini moderni, è un po' subordinato a questa nuova concezione del musicista. Però secondo lei che rapporto deve avere quindi anche un giovane nei confronti del passato? Dunque sappiamo benissimo che il presente vive del passato, non ne possiamo fare a meno, ma vive anche del futuro, ovviamente, il presente. Cioè nel senso che è l'aspirazione a fare qualche cosa di nuovo. Ma il passato per un musicista è conoscere l'interpretazione che c'è stata, perché l'interpretazione attuale non è altro che la somma delle antiche interpretazioni che si sommano, si modificano, eccetera. Ma non c'è nulla fatto ex novo, ovviamente. E questo vale anche per l'arte figurativa. È tutta una somma di percorsi, di tecniche, di stili, eccetera. Il dramma è che oggi i giovani hanno a disposizione tutto. Hanno un oceano gratuito. Possono scaricare musiche, partiture, libri, film, video, c'è di tutto. E pochissimi sanno dove guardare e che cosa guardare. E questo è il dramma. Ad esempio qui nella mia biblioteca, dove ho centinaia di partiture e moltissime incisioni storiche, ho un piccolo patrimonio, naturalmente, che oggi è quasi tutto praticamente online. Sono in pochi però che vanno a cercare questo patrimonio. E io lo dico sempre, per un giovane direttore d'orchestra, la cosa più importante dell'ascolto delle interpretazioni del passato è quello di farsi un'idea di quello che era il fraseggio, il modo di fraseggiare, il modo di suonare. E oggi il dramma è che purtroppo, già da 30 anni e più, quando è iniziata l'era della registrazione digitale, i musicisti si sono adattati a quel tipo di sonorità. E questo ha modificato molto il gusto interpretativo. C'è questa ricerca sempre della perfezione tecnica a discapito di una perfezione di tipo musicale, molto più elevata naturalmente. Chiunque sia andato in una sala da concerto si accorge che l'ascolto non è quello del cd o casalingo, insomma, dove viene tutto definito e dove si sente molto spesso magari una parte secondaria in primo piano, cosa che neanche il direttore d'orchestra del podio molto spesso ascolta. E certo, sono parametri completamente diversi. Poi c'è da dire che oggi è tutto così accelerato che anche la mancanza di prove a volte porta i direttori a dover risolvere le cose in pochissimo tempo e quindi... Questo è uno dei drammi oggi dell'esecuzione musicale, sì. Perché se da un lato oggi le orchestre hanno raggiunto un buon livello tecnico. Un direttore d'orchestra non ha più bisogno di ore e ore di prova per preparare un concerto. D'altro canto questo ha fatto sì che le orchestre si siano un po' adagiate sulla loro abilità tecnica. Tutto l'approfondimento di tipo interpretativo risulta minimo. Tant'è vero che oggi molte orchestre al mondo suonano più o meno allo stesso modo. Mentre una volta, ad esempio, quasi tutte le orchestre europee avevano un sound completamente differente. Oggi questo sound man mano si sta omologando verso... suono un po', diciamo, di tipo internazionale. Certo. Alcuni direttori riescono anche in breve tempo, in poche prove, a fare qualche cosa di speciale. E si ritorna al discorso di prima, quello del carisma. Esatto. Infatti, osservando anche i video, oppure le sue lezioni, ci si rende conto che lei non dispensa mai delle ricette prettamente tecniche su come affrontare a volte certe partiture, però è più propenso a lasciare una certa libertà proprio... Ma quello è fondamentale, perché non si può pretendere da un giovane una sorta di indottrinamento rigido. Oggi, purtroppo, devo dire proprio purtroppo, molti giovani arrivano già un po' inquinati con la moda un po' della filologia, che per carità è sacrosanta, ma quando è presa come ricetta medica naturalmente non funziona. La filologia, delle interpretazioni diciamo un po' alla moda, perché sono influenzate anche da ciò che ascoltano. E questo è il dramma principale. Mi riallaccio a ciò che ho detto prima, l'opportunità di poter ascoltare, di dover ascoltare le interpretazioni del passato, per avere un'idea e farsi un'idea personale. Molto spesso l'idea di un giovane oggi è agganciata a un modello che ha ascoltato la sera prima. E questo chiaramente è molto impeditivo nello sviluppo armonico di un pensiero. Certo, certamente, sì. E tornando invece alla sua accademia, è strutturata come triennio, come biennio, poi so che lei non fa master brevi o master estivi, perché anche su quello ha una sua idea. Beh, allora, mi hanno chiesto in passato, ogni tanto me lo chiedono, di fare master class brevi, magari corsi estivi, quelli che durano una settimana, ma mi sono sempre rifiutato. Mi sono rifiutato per il semplice motivo che in una settimana il docente non è in grado di rendersi conto delle capacità musicali, anche delle attitudini umane di un allievo e viceversa l'allievo non è in grado di entrare in empatia con il docente. Quindi, in genere questi corsi si risolvono sempre per dei buoni affari per chi li organizza, buoni affari dal punto di vista economico. Quindi io mi sono sempre rifiutato. E ho preferito dar vita a questa mia accademia, dove ho previsto dei percorsi più lunghi, uno triennale proprio per i giovanissimi. Ho previsto anche un corso biennale per chi viene a perfezionarsi, nel senso che molto spesso sono studenti che hanno già un diploma di direzione d'orchestra, alcuni hanno già una piccola attività musicale, quindi vengono a fare qualche cosa che magari in vita loro non l'ha neanche mai fatto. Sicuramente ecco, in un conservatorio, quello che faccio io credo non si possa fare un po' per una questione di tempo e forse anche per una questione un po' di tipo ideale. Certo. Certo. Bisogna sottolineare anche il fatto che durante i suoi corsi è sempre presente un'orchestra e questo è un valore aggiunto non indifferente. Certo, perché l'orchestra è lo strumento del direttore e come tale deve essere a disposizione, soprattutto agli inizi, per capire il proprio ambito, comprenderlo a fondo. Soprattutto l'avere a disposizione non solo dei musicisti ma degli uomini per comprendere bene anche il proprio ruolo, quindi le relazioni anche umane che un direttore d'orchestra deve instaurare con l'orchestra. Soprattutto quei musicisti e ogni musicista vede, percepisce la musica in modo differente e anche il ruolo del direttore è visto in modo differente. Ci sono strumentisti che preferiscono e prediligono magari la precisione gestuale da parte del direttore, altri invece le qualità immaginative oppure le capacità di fraseggiare. Insomma c'è una grande varietà. Tutte queste attitudini umane appunto sono quelle che un giovane direttore deve anche tenere sempre presente, perché deve imparare anche come si tratta l'orchestra, proprio perché l'orchestra non è uno strumento a tastiera dove tutti i tasti sono uguali. Certamente. E qui le capacità anche di entrare in sintonia con i musicisti fanno sì che un direttore poi sia in grado di esprimersi al meglio. Certo. E c'è da dire soprattutto per i profani che magari pensano che il direttore d'orchestra sia semplicemente un personaggio che serve per tenere il tempo. Invece durante i suoi corsi gli studenti possono anche assimilare diverse tipologie con cui i propri colleghi affrontano certe partiture e soprattutto la cosa impressionante è il suono che ogni volta cambia a seconda di chi sale sul podio. Certo. Nonostante magari sia la stessa composizione. Certamente. E spesso questo non si sa, ma in realtà è un cambiamento impressionante. Il fatto è che ogni orchestra, cioè tutte le orchestre, reagiscono principalmente alla presenza del direttore, cioè in base a ciò che il direttore in quel momento emana. Io dico sempre un'orchestrale quando vede un direttore d'orchestra scendere dal taxi con la borsa in mano, da come cammina, da come saluta, da come guarda, da come dà la mano, già ricepisce il ritmo del direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra nel momento in cui sale sul podio, da come guarda l'orchestra, come già si appresta a dare il primo attacco, già ha dato ritmo all'orchestra e ha dato soprattutto il suono. Perché non dobbiamo dimenticarci che il direttore d'orchestra, come tutti i musicisti, si occupa principalmente di suono ed è lì per creare un suono. Naturalmente dentro questo suono c'è un mondo. C'è un mondo fisico, c'è un mondo filosofico, un mondo metafisico. Ognuno poi naturalmente ha il suo mondo. Questo, ad esempio, è una cosa che nei conservatori credo che pochi tengano presente. Il fatto appunto che il direttore d'orchestra non è lì solamente per imbastire, confezionare bene un'esecuzione. C'è tutta una serie di cose. Lei, oltre ad aver intrapreso lo studio della direzione, ha affiancato anche lo studio della composizione con un illustrissimo maestro che è Bruno Bettinelli, che tra l'altro è stato anche maestro di Mutti, di Abbado, di Pollini e tantissimi altri suoi illustri colleghi. Lei consiglia quindi ancora oggi lo studio della composizione e i suoi allievi? Ma più che consigliarlo, lo riterrei un obbligo per il semplice fatto che lo studio della composizione, quindi lo studio dell'armonia, del contrapunto, della fuga, è alla base di qualsiasi conoscenza musicale per un direttore d'orchestra. Altrimenti senza questi studi difficilmente un direttore d'orchestra potrà entrare nella comprensione totale di una partitura d'orchestra. Si limiterà molto spesso all'aspetto puramente appunto gestionale, di attacchi, di frasi da modulare più o meno in un certo modo. Poi per carità può esserci anche un direttore d'orchestra che è in grado di comprendere una composizione senza avere basi grammaticali di questo genere, però sicuramente un giovane musicista dovrebbe avere questi studi fatti bene, ma questo non riguarda solo il direttore d'orchestra, riguarda tutti i musicisti. Bisogna avere una buona guida, delle buone capacità naturalmente per affrontare questi studi, ma sono studi comunque indispensabili, assolutamente indispensabili. Come dico, dovrebbe essere un bagaglio comune a tutti i musicisti. Insieme anche all'ascolto e allo studio del repertorio, che non deve essere solamente finalizzato al proprio strumento, al proprio ambito. L'ascolto, ad esempio, da tempo nei conservatori c'è un grande florileggio di corsi di analisi musicale, che può essere anche utile, anche se poi ci sono analisi e analisi naturalmente. Ma il musicista, in fin dei conti, poi l'esecutore deve operare una sintesi. Ecco, forse bisognerebbe fare un corso di sintesi musicale, perché quello che manca oggi è quello. Di interpreti che analizzano e che vi sezionano le partiture e pieno il mondo. Di interpreti che riescono a conferire un senso, un'unicità alle esecuzioni, ecco, quelli sono veramente rari oggi. È inevitabile che il direttore d'orchestra, come tutti gli interpreti, sia lì anche a produrre se stesso. Ma dovrebbe produrlo al meglio, cioè se stesso dal punto di vista più intimo, più interiore. E molto spesso diventa uno show. A proposito dell'esecuzione musicale, che oggi è diventata un po' paradossale, è questa ricerca appunto della perfezione a tutti i costi. Io nella mia discoteca ho qui un'esecuzione di un concerto di Mozart suonato da Schnabel, diretto da Rozhinsky, dal vivo naturalmente, con la New York Philharmonic. Nel finale Schnabel ha una piccola amnesia e si fermano. Si sente confabulare i due sul punto dove riprendono, riprendono, finiscono in bellezza, grandi applausi. Ecco, oggi una cosa di questo genere è quasi inconcepibile. Cioè, un pubblico che è nato e è stato vezzeggiato con l'ascolto dei CD, è chiaro che non accetta più una cosa di questo genere. E che prevalica, va oltre il fatto della precisione interpretativa, della precisione dell'esecuzione musicale. È diventato quasi una sorta di droga alla quale il pubblico non può fare a meno, insomma, quello di appunto andare ad ascoltare la precisione assoluta dell'esecuzione. Sinceramente io in vita mia ho ascoltato anche esecuzioni imprecise ma affascinanti, anche di grandi. La capacità oggi di un interprete nel rendere quel momento qualche cosa di speciale veramente è molto difficile da trovare. E credo che però si possa lo stesso trovare anche a livelli non alti. Nel senso che una grande interpretazione può essere fatta anche a livelli bassi. Intendo dire non a livelli dilettanteschi, ma a livelli proprio di amore per la musica. Ecco, forse quello che manca da noi è un grande bacino di amatorialità, nel senso vero del termine. Quello appunto di amare la musica. Sarà perché, ad esempio, gli inglesi, insomma, i popoli del nord hanno molte orchestre amatoriali e noi non ne abbiamo. Abbiamo tante piccole orchestre anche di professionisti. Abbiamo tante orchestre di dilettanti. E questo per una questione storica, per una questione anche di educazione musicale di base e anche professionale che è molto carente. Manca questo. Poi, insomma, prendiamoci chiaramente la musica nel mondo vive non perché ci sono i Berliner Philharmoniker, la London Symphony o la Chicago. Vive perché il mondo è pieno di realtà più piccole che tengono viva la musica. Queste sono le bandi, i cori, le piccole orchestre, eccetera. Questo, naturalmente, è più facile trovarlo nei piccoli centri, in situazioni più modeste. Però è quello che tiene viva la musica. Certamente la musica oggi non è viva perché ci sono i dischi. È viva ancora perché ci sono degli appassionati, dei cultori della musica che la vivono tutti i giorni sul serio, in tutti i modi, eseguendola, insegnandola. E per fortuna. Per fortuna, certo. Bene. Quindi, insomma, devo dire che la sua attività in Accademia è un'attività preziosissima. Restituisce e custodisce, insomma, in un certo senso di principi. Sì, in questo senso sì. Diciamo che mi annovero a qualche illustre collega, di quale ho molta stima, siamo un po' ancora i custodi forse dell'ultimo messaggio lasciatoci da grandi maestri, grandi musicisti, che vivevano la musica in modo differente. Maestro, io la ringrazio tantissimo per questa piacevolissima chiacchierata, piacevolissima e anche molto interessante. Ricordo a tutti il sito dell'Accademia www.italianconductingacademy.com nel quale è anche linkato il blog in cui lei ha pubblicato alcuni suoi scritti, dico bene. Certo. Il primo che ho pubblicato anni fa. Che è questo. Sì, che è questo, che sono i miei pensieri. Esatto. Sono i miei pensieri sulla direzione d'orchestra. Non è un trattato di direzione d'orchestra, naturalmente. No, no, sfogliandolo abbiamo appreso che sono pensieri nati proprio dalla sua esperienza di musicista. Certo. Certo, molto interessante. Grazie ancora. Grazie. Grazie.